Un viaggio nel tempo sino all'epoca medioevale. La Terina torna per un fine settimana al suo antico splendore con la festa medioevale per due giorni di ferro e di fuoco per le vie del borgo del Valdarno Aretino. A dare il via ai festeggiamenti sabato pomeriggio il corteo storico degli armigeri e i musici della Rocca. Per l'occasione ha aperto le sue porte anche il castello per ospitare al suo interno il mercato medioevale. Arcieri, falconieri, giullari e rabdomanti infine hanno completato il tuffo nei secoli passati.